Rieccoti qua, sceriffo. Anche con me stesso mi chiamo col mio nome di battaglia. Voglio fare un esperimento. Sceriffo! Sì. Ora faccio la prova contraria. Domenico! Domenico. Ah, inutile. Non mi sento più come Domenico. Debbo chiamarmi sceriffo se voglio sentirmi e girarmi verso me stesso. Sono realmente un vecchio partigiano. Ma qualcosa di simile deve capitare ai frati. Ai frati che prendendo la tonaca cambiano nome. Ma piantala con queste storie, sceriffo. E dà un'occhiata alla valle. Sarchia. Rastrella la valle con gli occhi. Dio che riverbero! Se il sole stesse calmo. La neve è così bianca che vedrei uno scarafaggio fascista a un chilometro di distanza. Ma il sole riverberda matto. E così non vedrei un lottone a dieci passi. Sole fascista! E che sono deboli. Non ho mangiato ieri mattina. E ieri mattina che ho poi mangiato? Un bicchiere di grappa. Da questi contadini. Una pagnotta non l'hanno da darti. Ma un bel bicchierone di grappa ce l'hanno. Ho vissuto da ubriaco tutto ieri. Ma era ieri o un altro giorno? Ho completamente perso il conto del tempo. A ben vedere non sono nemmeno convinto che oggi sia proprio oggi. Ma piantala con queste storie, sceriffo. E da un'altra occhiata di sicurezza. Chissà che ora è. Sento di quando in quando suonare le campane ma le mie orecchie mi ronzano sempre tanto che non riesco mai a contare i giusti tocchi. Laggiù c'è un campanile e il quadrante guarda proprio da questa parte. Ma con questo riverbero è più facile vedere il padre eterno che quello a lancette. Ma che te ne fai, sceriffo, di sapere l'ora. E che desideravo poter immaginare quel che sta facendo mia madre a quest'ora. Ma se non so l'ora non posso indovinare che cosa sta facendo. Lavora, questo è garantito. Ma mi piacerebbe sapere esattamente che lavoro. Se cucina, se lava. E se lava per sé o per la puoi ridarmi andare. Non resisto più. Ora mi muovo. Ma che posso fare? Dove voglio andare? Non resisto più. Col freddo e con la fame posso ancora dirla ma alla solitudine non ci resisto più. Devo vedere gente. Voglio vedere gente. Potrei andare da un compagno. Il più vicino e il meno lontano è Kim. So preciso dov'è il buco di Kim. Ci vive come una marmotta. È un'idea, no? Ma a me non va. Mi parebbe essere già nella fossa. Io voglio avere il cielo sopra la testa anche se questo cielo non è poi un granché. No, non vado da Kim. Tra l'altro ho paura che sia pieno di scambia. Ecco, vado a Benevello e vado a trovare la sartina. È tanto cara e ha una voce meravigliosa. Bella non è. Ha le spalle troppo strette e i fianchi troppo larghi e poi ha un'ombra di baffetti sulla bocca. Sì, sì. Vado a trovare la sartina di Benevello. Ha una voce che nemmeno le studenti si è più fini. Io starei a sentirla per ore e solo dicesse buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro non devo nemmeno entrare in paese. Sentire le porte e le finestre che si chiudono con colpi secchi come rivoltellate. I cani che fanno le furie come se io portassi la pestilenza. Lei abita giusto fuori il paese. Mi avvicinerò con tutte le cautele quasi come se mi accostassi a un posto di blocco. Tra l'altro non voglio che la gente spettegoli. Spettegola anche di questi tempi la porca gente. Ora ci vado. Spero solo che sia un'ora possibile. Ma fra poco potrò ben vedere il quadrante del campanile. E se non è un'ora decente aspetterò. Aspetterò nascosto dietro quel fico selvatico all'ultima svolta prima del paese. Per quanto potrei piantarmi sulla cresta della collina e allargarle braccia in croce. E tutti, anche i contadini più esperti, direbbero un nuovo albero. Ora mi cammino. Ma cosa dirò alla sartina? Che son venuto per fare quattro chiacchiere e lei per amore della causa mi deve sopportare? No, non va. Debo presentarmi con una necessità. Forza, sceriffo. Scova qualcosa per la sartina. Non ha da essere una cosa molto intelligente. Intelligente o scema. Lei capisce lo stesso che ha un pretesto. Ma che se io ho un pretesto che la faccia solo sorridere e non ridere. Ah, ecco. Ho perduto quattro bottoni e le sarei grato se me li riattaccasse. Benissimo. Ma il mio giubbetto non ha più un bottone che uno. Me ne resta qualcuno nella brachetta ma non è il posto adatto. Lei non deve nemmeno lontanamente pensare che sono uno sporcaccione. Voglio solo stare un po' in sua compagnia e farla discorrere. Ci sono. Mi faccio uno strappo nel giubbetto col pugnale. Ecco fatto. Mi rammendi questo strappo per piacere. Lei non ci crederà, signorina, ma c'entrava uno spiffero da questo strappo. Uno spiffero che mi darebbe la polmonite fulminante. Metto le armi sotto un tumuletto di neve. Così lo vedo solo io. Io che devo individuarlo. Sono più leggero con le armi sotterrate. Le ho avviluppate nel fazzoletto e per un'oretta non patiranno. Proprio mi sento più leggero. Io non ne avrò bisogno e la ragazza starà più tranquilla. Spero proprio che apprezzerà la mia finezza. Per entrare da lei mi sono disarmato. Per non comprometterla nel caso. Ma non può succedere. Il fascista più vicino è a sei chilometri in linea d'aria. Spero proprio che la sartina colga il mio pensiero e lo apprezzi un tantino. no non abbia paura. Non ho. Le ho messo paura. Vestia che sono. Dovevo presentarmi diversamente. Era lo stesso. No no non era lo stesso. Le facevo meno colpo. Spero che ora le sia passata. Mi dica che lei è passata. Sì sì. Mi scusi. La metto io la legna nella stufa. No non si disturbi. Ma niente affatto. Faccio io. Mi piace. Mi piace dar da mangiare al fuoco. Dobbiamo fare economia. Metta metta. La legna è l'unica cosa che non scarseggia. Mio zio è padrone di tutto un bosco. Ho un po' la faccia del cretino. Ma chi dici? È che il bel calore di qua dentro comincia a farmi effetto. Sono contenta che si riscaldi. Sto quasi fondendo. È una sensazione bellissima. Ma quando stai così bene non puoi fare a meno di avere un'espressione un po' cretina. Ma cosa dice? Posso sedermi un attimo? La sedia è lì che fa niente. È un po' bassa. Ed è la mia lavorante. Una piccolina come vede. Ma brava. Oggi è a casa per mal di gola. Mi fareva che lei non lavorasse da sola. Si sente dire in giro che lei ha lavoro fino agli occhi. Ma sì? E un partigiano ha orecchi per queste cosette. E perché no? A volte ci annoiamo a morte e ogni discorso che ci capita di sentire è sempre interessante. Molto interessante. Che cosa sta facendo di bello? Un corredo per una mia amica che si sposa. Si sposa? Alla fine di questo mese. Ma bisogna essere mati per sposarsi di questi tempi. Qualcuno deve pur pensare a non lasciare finire il mondo, no? Già. Non lasciare finire il mondo. Ma se lei ha da lavorare ad un corredo allora io mi ritiro. No stia stia stia. No voglio dire che lascio perdere la cosa per la quale ero venuto. Ero venuto per darle un disturbo, la capite? Per farle fare dello straordinario. Le lo faccio lo stesso? Ah no? Se lei aveva da lavorare ad altro che un corredo. Su 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 su. Mi faccia vedere di che lavoro ha bisogno. Non me lo vede addosso? Venga subito qui. È uno strappo di quelli. Lei non ci crederà. Ma da questo giubbetto ci passa uno spiffero da polmonite fulminate. E ci credo sì. Dì, glielo ramendo subito. Debo togliere? Beh, sarà meglio. Lo porto da mesi, giorno e notte, quindi non si scandalizzi. Ma pensi un po'. Solo non ho filo del medesimo colore della stoffa o che gli si avvicini abbastanza. Per cui il ramendo apparirà molto eh. Pensi un po'. Ma come se l'è fatto? Il giubbetto? Lo strappo. Ah, quello strappo ha una storia. Beh, non me la dice? No, veramente è una storia che a una ragazza nemmeno conviene raccontarla. Ah beh, se è così no. Non che sia indecente, è tutt'altro. È una storia un po', un po' dura. Nel senso che, ma gliela voglio dire, in due parole e in uno stile adatto a lei. Sì. Perché se dovessi raccontarla, per esempio, a un mio compagno, userei tutt'altro stile. Beh, si capisce. Quello strappo me l'ha fatto un ramo con delle spine lunghe, un dito e affilate come dei pugnari. Un ramo spinoso che a momenti mi costa la vita. No. E quando? Appena ieri mattina. Ieri mattina giravo per il mio versante. È il versante qui di fronte. Facevo un po' di pattuglia per mio conto. Già, dovete stare molto attenti, eh, ora che siete sbandati. Stavo più che attento. Ma il guaio è che mi sono spuntati dietro, da tutt'altra parte. Chi? Chi? I soldati. Che scema. E quanti erano? Cinque, sei, forse dieci. Il preciso non lo so, perché l'intrico degli alberi mi confondeva la visuale. E poi perché mica mi sono fermato a contarli bene. È scappato. Uno contro almeno sei. E con la sola pistola, eh. Avessi avuto lo stem, forse. No, ma che, ma che ha fatto benissimo a scappare. E loro? M'hanno gridato arrenditi. Ma io ho avuto i riflessi pronti e già correvo come un treno. Voglio ben credere. Oh, non è mica tanto detto, eh. Non è poi così semplice. Vedi, signorina, arrenditi è un grido che fa gelare il sangue a tutti, nessuno escluso. C'è però quello che reagisce e che riesce a scongelare il sangue e si salva. C'è quell'altro invece che non riesce a rimettere in circolazione il sangue e resta inchiodato ed è fott... spacciato. Ma veramente il sangue si gela? Come l'acqua sull'aia la notte di Capodanno. Potrei raccontarle di mio compagno? Si chiamava Tom, uno dei tanti Tom. Ebbene, questo Tom viaggiava solo e tranquillo per una valletta, senza accorgersi che sul crinale, alto un 300 metri, viaggiava una compagna di soldati che invece l'avevano avvistato da un pezzo. Gli gridarono arrenditi con un megafono. E a Tom si gelò il sangue, come a tutti, solo che Tom non riuscì a scongelarlo e restò come... imbalsamato. E quelli ebbero tutto il tempo di scendere quei 300 metri, pensi, e di beccarlo che nemmeno loro credevano ai loro occhi. Capisce? Quel Tom non mosse più né un piede né una mano, perché il sangue gli si era gelato nelle vene. Si riscosse soltanto quando loro gli avevano già messo le mani addosso. Ma che cose? E l'hanno ammazzato? Non si domanda nemmeno. Poveraccio. Lei invece? Io! Io sono rimasto in folle per un attimo e poi ho ingranato la marcia. E che marcia? E quelli? Dietro! Sparandole? Come no! Certe raffiche corte ma avvelenate, che tranciavano come stecchini di rami grossi, grossi due volte, questo mio braccio. Ieri mattina. Strano. E' strano che non si sia sentita fin qui, se è stata una tale sparatoria, no? Non si è sentita? No. Ma era sull'altro versante. E poi? E poi è successo nel bosco. E il bosco è fenomenale, per come imprigiona i rumori. E poi? Ah, e poi li ho perduti. Io correvo i 60 all'ora. Avevo solo il terrore di un intoppo qualsiasi sulla strada. In questo caso avrei dovuto buttarmi nella neve e nella neve alta sarei stato come una mosca nel miele. E lo strappo quando se l'è fatto? Quando? Nel pieno che mi sparavano. A un certo momento ho distinto una raffica fra tutte le altre e mi son detto, questa porta il tuo indirizzo giusto e completo. Sono cose che si sentono, sa? Perlomeno noi vecchi partigiani li sentiamo. E allora ho scartato. E scartando sono finito contro quel famoso ramo dalle spine lunghe, un dito e affilate come pugnari. La raffica è passata. E io ho fatto per ributtarmi sulla strada, ma... Mi son sentito impigliato. Deve essere tremendo, eh? E allora ho strappato, ho strappato. E per fortuna la spina ha ceduto. Se mi plegava a darle una seconda strappata, addio! Che cose! Ma adesso lo strappo era ammendato e come è sparito lo strappo spero le sparisca anche il brutto ricordo. Il ricordo? Ma chi ci pensava più? Dopo tre minuti? Ma com'è possibile? Poi all'assicuro. Come ripresi fiato smisi di pensarci. Certo che voi siete ragazzi speciali, eh? Non foste speciali non fareste il mestiere che fate. Ma ecco il suo giubbotto come meglio ho saputo. Vedo da qui che è un lavoretto d'oro. Ma qui ne mancano i bottoni. Tutti quanti i bottoni. Ah, lo so. Ma lei si è già disturbata tanto. Ma ci mancherebbe. I bottoni hanno la loro importanza. A chi lo dice? Sono dozzini di sere che marcio contro vento. E devo stringermi il giubbetto con la mano, ma il porco ventaccio passa allo stesso. E per giunta mi ghiaccia la mano. Nara, ma non vada troppo matta. Me ne attacchi due soli qui in alto. E qui che il vento mi ghiaccia. Due bottoni qualunque, anche scheggiati. I due più brutti che ha. E perché i due più brutti? Apparve alla finestra una testa chiusa in un passamontagna nero. Un attimo dopo la porta si spalancò rimbombando. Irruppo un soldato. Armato di mitra. Col calcio mozzato si avventò sul partigiano. Si urlarono addosso. Entrò un tenente. Con mitra e binocolo pendente sul petto, la testa chiusa da un casco di cuoio d'aviatore. Anch'io gridai rovesciandomi sulla sedia. Mi mancava l'aria. Il tenente frugò il partigiano che teneva le mani alzate. Arretrava verso la parete, stranamente zoppicando. Sei fottuto, partigiano. No, non sono partigiano. Il tenente lo colpì. Fortissimo. Se non sei partigiano, cosa sei? Niente, non sono niente. Ti piacerebbe? Essere niente. Quanti ne hai ammazzati dei nostri? Te lo spassavi con la tua bagascetta, eh? Sai ora che ti facciamo, ti fuciliamo, bastardo. Bastardo. No, non potete farmelo. Mi avete trovato senza armi. Menti, sporco assassino. Se la trovate, vi autorizzo a fucilarmi. Frugate, frugate. Troverete soltanto aghi, ditali. Il tenente si sfilò la pistola, la lanciò piatta sotto la macchina per cucire. Il soldato finse di averla trovata sotto il pedale. Ora sì che sei morto. Vieni fuori, sull'aia. Il partigiano disse solo, ci rivedremo. Il tenente rispose all'inferno, ma per ora ci vai tu. Senti, una rafica, poi, come se le pallottole investissero anche me attraverso il muro. Sono svenuta. Senti, una rafica, poi, come se le pallottole investissero anche me attraverso il muro.